Digito Ergo Sum è lo spettacolo teatrale realizzato da Olduzza Schrafkandomi e Cecilia Lorenzetti sui temi dell'identità e dell'affermazione personale nell'era dei social network. Lo spettacolo è stato realizzato la prima volta grazie al contributo del bando Giovani Talenti Creativi del 2016, promosso dal comune di San Lazzaro di Savena per valorizzare e sostenere la realizzazione di progetti nell'ambito della creatività giovanile. Digito Ergo Sum affronta i temi dell'identità, della solitudine e della dipendenza dai social network che si ricollegano al tema attuale del bullismo e del cyberbullismo. I temi trattati dallo spettacolo con particolare riferimento al cyberbullismo sono stati illustrati nell'incontro di lunedì 30 ottobre al quartiere Savena di Bologna. Lo spettacolo si dipana in tre prove, una social, una legata ai video tutorial, noi dobbiamo creare dei video tutorial e dire che cos'è social e in ultimo passaggio si parla del nostro rapporto con le notizie che si leggono online e quindi il nostro rapporto, il rapporto diciamo dell'intera umanità con ciò che è tragedia, con ciò che viene trasmesso sui social e si legge con molta semplicità, con molta superficialità e in qualche modo il nostro rapporto riguarda queste notizie, cioè noi come viviamo notizie angoscianti e in qualche modo ne prendiamo le distanze e il nostro rapporto con queste notizie in qualche modo rappresenta l'immagine che noi diamo agli altri. Vi sentite privata della vostra dignità? No! Bene, procediamo. Come faccio a guardarmi allo specchio? Non appartezo nessuno. Rispetto al cyberbullismo in particolare, al tema dell'identità nel mondo digitale, l'accenno che penso sia importante è proprio che appunto perché internet è uno strumento la riflessione in cui dobbiamo porci è che è come uno specchio e lo specchio riflette, anche se magari in modo distorto, amplificato, qualcosa che c'è nella realtà. I bisogni che gli adolescenti e i preadolescenti ormai, perché l'età si è molto abbassata di disturbi legati al web e all'identità legati a internet e ai social, i bisogni che hanno questi adolescenti sono gli stessi che avevamo noi, sono gli stessi che avevano i nostri genitori. Non è che il bisogno cambia, cambia l'espressione del bisogno e la tipologia di risposte che questi adolescenti, questi giovani, riescono a trovare per soddisfare questi bisogni. Quindi identità, vicinanza, riconoscimento, socializzazione, sono sempre questi bisogni. Vediamo che negli adolescenti sta mancando proprio un'identità di, si può dire, di gruppo, che sia anche soltanto noi siamo adolescenti, stiamo vivendo questo momento, abbiamo bisogno di strumenti per affrontare, di modelli anche da seguire. Il bullismo e il cyberbullismo ancora di più sono comunque frutto di un alfabetismo emotivo, cioè io interpreto male lo strumento per me, quindi rivolgo allo strumento bisogni, aspettative e illusioni che non sono regolate in base alla realtà, quindi problema di base del ragazzo che investe questo strumento di aspettative che non sono connesse con la realtà, e invece chi pratica bullismo o cyberbullismo, diciamo, in questo caso cyberbullismo in particolare, non ha la più pallidità di cosa sta facendo a livello emotivo, alla persona a cui lo sta facendo. Sostanzialmente questo mondo interiore diventa uno spaccato angosciante e allo stesso tempo comico, perché ci troviamo di fronte degli adolescenti che pur di guadagnare la stima, l'ascolto dei propri coetanei, si espongono, e espongono delle parti di sé che chiaramente non sono più controllabili, sui social, su YouTube, su tutto ciò che è digitale. Ecco, questo rapporto, una volta c'erano i bigliettini, io dico sempre, c'erano i bigliettini classici di carta, oggi c'è WhatsApp, tutto ciò che è replicabile, moltiplicabile, e in qualche modo diventa un mezzo di ricatto potente. Ovviamente il cyberspazio è ciò che amplifica nei tempi e nella vicinanza tutto, nella ripetitività tutto, per cui il tema del bullismo, che già è una piaga riconosciuta dagli anni 70, nello specifico, negli anni 90 inizia a prendere la piega del cyberbullismo, fine anni 90, inizio 2000, perché? Perché il cyberbullismo, anche se ha meno incidenza per ora, cioè i ragazzi hanno più paura del bullismo reale, dai dati istat, rispetto al cyberbullismo, ma è molto più pericoloso a livello di impatto sull'identità, perché è amplificato nella ripetitività, cioè se io ti faccio uno sgambetto adesso, tu vai a casa, stai male, e magari durerà una settimana, o se sei sfortunato durerà gli anni che dovremo passare la scuola insieme. però dopo, diciamo, lo vivono quelle 10 persone, 15 persone che mi sono intorno e per quel tempo limitato. Ciò che il cyberspazio fa è amplificare questi confini, per cui l'evento viene rivissuto, rivissuto, rivessuto, in modo ripetitivo, e viene visto e assistito da centinaia di persone, fino a migliaia, perché ci sono stati casi veramente di una diffusione spropositata di questi video, di questi messaggi, di tutto ciò. La mattina, prima di andare in bagno, ho già pubblicato il mio primo video. Se non lo faccio entro le 9.30, non vado in bagno. Noi viviamo in una società super veloce. Il cyberspazio non è solo quello del web, ma è quello della nostra vita di tutti i giorni, per cui la richiesta è che noi siamo al 100% in ogni ruolo che interpretiamo. Diventa schiacciante e tutto questo lo viviamo con una fretta esagerata, per cui non abbiamo tempo. Per cui quando io mi trovo le famiglie davanti e mi parlano dei problemi dei loro figli, banalmente a volte dico ma avete tempo di parlare con loro? Cioè, no. Quindi cosa si fa? Se io non ho tempo della mia vita, non ho tempo di coltivare l'educazione dei miei figli, come faccio? Questo è un problema di base, no? Per cui come riuscire a ritagliare dei ritmi più lenti? Ma non abbiamo più tempi morti e facciamo fatica a concederli ai ragazzini, anche perché loro non sono più allenati, per cui i tempi morti li riempono col videogioco, con la tv. Cioè, lo stare sul divano senza fare niente è una cosa che noi abbiamo perso. E se pensate solo a 50 anni fa, a 80 anni fa, era totalmente diverso, perché non esisteva neanche la tv. Per cui adesso riempiamo, riempiamo, riempiamo. Internet, ovviamente, anche su questo ha inciso. Per cui riempiamo anche con Internet, riempiamo col cellulare, riempiamo con qualsiasi cosa. Una prima o poi cederà. Sì, ricevere. Mi piace, 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 mi piace. Due arei possibili in cui pensare di intervenire, due direzioni nell'educazione dei ragazzi rispetto a questi temi. Uno è educarli alla sconfitta, perché in questo mondo, non solo quello digitale, nel nostro mondo attuale, in generale, non siamo più abituati a essere sconfitti, non siamo abituati a gestire i fallimenti, non siamo abituati a dover procrastinare la gratificazione. Abbiamo quasi tutto e tutto abbastanza subito, non abbiamo bisogno, è l'epoca del benessere, per cui pro e contro come in tutto, e in questa epoca del benessere proprio la dilatazione, la dilazione del bisogno e della soddisfazione è un problema, per cui anche rispetto all'identità, allenare al fallimento, alla sconfitta, perché non vogliono dire la fine. Dobbiamo essere state brave per essere state selezionate. Forse eravamo le uniche due? Vedi che sei demotivante! No, è che sono oggettiva! Abbiamo livelli di perfezionismo e aspettative su noi stessi che sono sempre peggio, sempre più alti, e sono molte volte alla base dei tassi di suicidio. Il suicido online è proprio un passaggio nel testo a livello drammaturgico che ci ha dato la possibilità di aprire una porta, che è quella del senso del nostro lavoro, della nostra, tra virgolette, missione nel teatro, che vuole essere quella di aprire gli occhi ai ragazzi, soprattutto, ma anche un pubblico di adulti, perché lo spettacolo è anche per adulti, soprattutto, diciamo che gli adulti lo vivono in un modo, i giovani in un altro, perché i giovani chiaramente vivono tutto in maniera in chiave comica, con una risata amara, perché si risveglia anche l'amarezza dietro alla risata, gli adulti ridono in momenti diversi dello spettacolo, vivono emotivamente in modo diverso lo spettacolo e sono travolti in maniera emotiva, in modo più profondo rispetto ai ragazzi. Quindi lavoro sulle emozioni e sull'empatia, ed è quello che credo che loro, Uldu e Sicilia, portino avanti, soprattutto, cioè proprio l'immedesimarsi nel personaggio, immedesimarsi nella vittima, anche immedesimarsi in quello che si definisce il carnefice, no? Cioè, anche chi agisce bullismo, cyberbullismo, ha tutta una sua psicologia da considerare. A livello drammaturgico abbiamo voluto dare uno spaccato di questa vita da social network e il nostro intento è proprio quello di aprire gli occhi su queste dinamiche. Vogliamo, in qualche modo, che il nostro fare teatro abbia un senso per le persone, che abbia un senso nella riscoperta della poesia, nella riscoperta del senso individuale, collettivo della vita, nel guardare questo genere di spettacolo e nell'immedesimarsi nelle storie e nelle situazioni che vivono le due protagoniste, sicuramente attiveranno anche proprio modalità di pensiero e di farsi domande e darsi risposte nuovo, in qualche modo, perché il modo in cui Ulduse e Cecilia trattano questo argomento, secondo me, ha proprio il linguaggio che serve a proposito di linguaggio, no? Web, internet, è proprio una forma di linguaggio. Hanno bisogno di scontrarsi con la realtà, delle dinamiche, riderci e poi tornare a casa e, ah però, su cosa ho riso? Ho riso come crepa pelle, ma su cosa ho riso esattamente? Sulla disfatta di una persona che magari è stata, in qualche modo, bullizzata dall'altra, poi ci sono delle dinamiche contrastanti che vedrete nello spettacolo. Attenetevi alla prova! Attenetevi alla prova! Attenetevi alla prova! Attenetevi alla prova! Attenetevi alla prova!